Domani è la giornata decisiva per gli elettori dei 12 comuni dell'Agrigentino interessati dalle amministrative 2017. In totale sono 130.779, 36.712 residenti all'estero, gli aventi diritto al voto che saranno chiamati alle urne per eleggere le nuove amministrazioni e nuovi consigli comunali. 65.871 le elettrici, 64.908 gli elettori, 135 le sezioni elettorali. Domani si potrà votare dalle ore 7 alle ore 23 nei comuni di Aragona, Vivona, Campobello di Ricata, Castel Termini, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Palma di Montechiaro, Santa Margherita Belice, Sciacca e Villa Franca Sicula. Per Palma di Montechiaro e Sciacca, i due comuni che contano più di 15.000 abitanti, si voterà con il sistema proporzionale e l'eventuale ballottaggio per l'elezione del sindaco avrà luogo il 25 giugno. Per i restanti comuni si adotterà il sistema maggioritario. Vediamo dunque il numero degli elettori e delle sezioni per ognuno dei comuni. Ad Aragona le sezioni sono 14, i votanti 15.155, di cui circa la metà, 7.568 residenti all'estero, 7.591 i maschi e 7.564 le femmine. Cinque sezioni invece per Vivona, per una totale di 3.975 elettori, 1.972 uomini e 2.003 donne. Spostiamoci a Campobello di Licata. 5.367 gli elettori e 5.486 le elettrici, per una totale di 10.853 votanti, suddivisi in 11 seggi. A Comitini le sezioni elettorali sono due e gli elettori 1.804, dei quali 900 femmine e 904 maschi. A Villa Franca Sicula, gli aventi diritto al voto, sono invece 717 femmine e 696 maschi, per una totale di 1.413 votanti. Cinque sezioni per Lampedusa e Linosa, 5.410 gli elettori nelle isole maggiori delle Pelage, 2.837 gli uomini e 2.573 le donne. Castel Termini conta invece 12 sezioni, con 12.510 votanti, 6.273 maschi e 6.237 femmine. Sette le sezioni per Santa Margherita Belice, gli elettori sono 6.569, di cui 3.171 maschi e 3.398 femmine. A Montallegro gli elettori sono 3.682, di cui 1.808 femmine e 1.874 maschi, le sezioni sono quattro. 7.137 i votanti a Cattolica e Raclea, oltre la metà dei quali, 4.061 residenti all'estero. Infine, i due comuni per i quali si procederà con il sistema proporzionale, 35.889 i votanti a Sciacca, 42 le sezioni, 18.376 le femmine e 17.513 maschi. A Palma di Montechiaro le sezioni sono invece 24, con 13.138 elettori e 13.244 elettrici, per un totale di 26.382. Come si vota? Basterà tracciare una X sul nome del candidato sindaco, poi una X sulla lista che si vuole votare, che può essere diversa da quelle che sostengono il candidato sindaco scelto, e scrivere in corrispondenza della lista scelta il nome del candidato al Consiglio Comunale. Ricordiamo che per il Consiglio Comunale si possono effettuare due preferenze, purché siano della stessa lista e siano di sesso opposto, un maschio e una femmina.